Mostrate tutto il vostro corpo, dalla testa ai piedi, dove c'è una vena tappata. Sbloccatela, prendete quelle cellule morte e buttatela ai piedi di Gesù. Fate tutto questo e ringiovenerete il vostro corpo, la vostra mente, i vostri tessuti. Se ci sono nelle gambe vene tappate, avete le gambe marro scuro, le vene scure, vene varicose, sbloccateli, lo potete fare se volete. Perlustrate il lungo e il largo del vostro corpo, se avete infezioni nelle unghie dei piedi, puliteli, fateci i manicure, i piedicure. In tutto il vostro corpo, voi siete il dottore, voi siete quello che siete. Adesso, fatelo! Siamo uno, nel Vangelo di Giovanni, 14, versetto 9, Gesù gli disse, «Catando, tengo, sono un volo di Giovanni, e tu non mi hai conoscuto l'info? e tu non mi hai conoscuto l'info?» Ho visto il padre. Come mai tu dici, mostraci il padre? con lo segno 2 versetto 9 perché in lui Cristo Gesù abita colpo e al mondo tutta la tenenza della Deità mangiano piccoli via la sera piazza almerini numero 3 Deità avvicinato 99 0 26 per chi ha telefoni vecchi che non usa più che funzionano con l'internet che posso gestirli con facebook oppure con youtube non mi interessano le altre app se funzionante e non lo usate spediteli tutti all'indirizzo che ho detto poco fa in Italia angelo piccone angelo piccone via piazza armerina 13 l'icata l'icata provincia aggregento 92 00 27 perché devo evangelizzare tutto l'universo con dispositivi personale ogni paese il suo telefono e il suo computer in automatico 24 ore su 24 e ho bisogno ogni nazione un telefono figuratevi quando ne ho bisogno aiutatemi a portare avanti questa evangelizzazione per tutto l'universo che tutti possono inginocchiarsi e lodare Dio oggi non domani buttate tutti i vostri amici e nemici qua dentro queste live tic-toc buttatele tutti qua dentro condividendo e condividendo in Facebook in tutti i vostri gruppi tutto ciò che so è nel mio profilo Facebook Servo dell'Eterno andate andate in Facebook cercate Angelo Piccone dove sono con un vestito grigio entrate là dentro condividete tutte queste live fatte in tic-toc condividetele in tutti i vostri gruppi chat messaggeri dappertutto condividete 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 perché la gloria di Dio prima aiuterà voi che vi state mettendo in condivisione con tutto l'universo e poi aiutare gli altri che avete condiviso questo farà Dio a tutti voi credo certamente se lo dovrei scrivere adesso non sarei scritto in questo mondo ma più poverendo aggolendo tutte le religioni edifici l'uomo si propone e si e ha tutti i amore che leggeranno il mio libro è gelato dalla vostra pensia tutte le religioni e il nome e giocchiate tutti ai feli di Gesù e chiedetene perdono e allungue peccati peccati voi fate in tutta la vostra vita mandare i peccati per la vostra mente mentre guardavate una donna seguita e con la vostra mente l'avete posseduta o possedute e anche voi donne mentre un la vostra mente guardavate un bell'uomo lo avete seduto e consumato con rafforzo con la vostra mente avete peccati ecco quali peccati abbiamo dentro di noi e dobbiamo confessare a Gesù adesso lo capite quando peccati avete consumato mentre vi ma spumavate e con la mente pensavate e avete visto video pornografiche che vi siete lasciate andare verso quelle cose sporche e siete cadute profondamente in adulterio e vi pidiamo che solo Gesù potrà perdonarmi inginocchiando adesso e chiedendo gli perdono inginocchiandovi e chiedendogli perdono se non lo sapete fare chiamatemi a questi numeri in bas salve tedesco 00 49 17 7 1 8 3 8 0 5 7 italiano 00 39 37 61 0 36 4 62 Iscrivete il vostro nome con il nome una foto tutti i vostri peccati che avete fatti i vostri mali che attualmente vi sentite io adesso accenno alcuni mali che una persona potrebbe avere allora vendere vi leggerete e vi ascoltate non vi dovete muovere per nessun motivo per niente fermi comprovatevi più che potete se vi viene soletico e vi viene voglia di toccarvi qualsiasi parte del vostro corpo mentre leggete o sto leggendo questi testi siete affetti di prossime malattie fisico somatiche che presto si trasforma si trasformeranno in malattie fisico ecco state fermi dovrete essere fermi immobile ecco sto sto iniziando sto iniziando sto iniziando a sto iniziando a sto iniziando a fronte primo a piccolissime o la 6 Sì, non è possibile. da qualcuno, uomo o donna che siete, a scuola avete avuto violenza, avete sbagliato con vostro padre? 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 avete sbagliato con vostro 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 padre? E lo odiate a morte? Avete avuto problemi con i vostri datori di lavoro? E non li avete perdonati? Quindi state in questo momento ammalate di ansia, depressione, non dormite bene la notte, state prendendo farmaci per dormire e la vostra figlia. Vi hanno detto qualche uno che avete un tumore maligno o benigno? O qualche febbre? Ai polmoni o da qualche altra parte che vi dà dolori? Ai polmoni che avete subito nel vostro corpo un ictus celebrale con bloccaggi corporali? E parte del vostro corpo avete avuto litigi? E anche divisioni con il marito con le percussioni di divorzio? Da quando tempo? E voi uomini? Avete avuto litigi e anche divisioni con la moglie, ripercussioni di divorzio? Da quando tempo state soffrendo? Avete sbagliato con vostra nonna o con vostro nonno? Siete affetti di carenza, di affetto che qualcuno non vi coccola abbastanza? Avete dolori in qualche parte del vostro corpo? Avete subito operazioni nella vita? Avete traumi psicologici, incidenti stradali sul lavoro, sulla famiglia, subiti da cataclismi naturali? Spavendo, lambi, cuoni, risiete spaventati da topi, da serpenti, vipere, leoni, vampiri, spiriti, maligni? Potrei continuare ancora, ma se in tutto ciò che avete letto qui avete sentito formocolio nel vostro corpo, con il suo medico e con la vostra mano vi siete toccato, siete affetti di una distonia. Se non la potrete togliere, se non siete capaci a toglierla, chiamatemi ai numeri sopra indicati. Io pregherò Dio e Gesù, che Dio e Gesù vi guarirà. Ripeto che non sono io che guarisco, ma è assolutamente Dio e Gesù. Io sono un canale di preghiera che mette in comunione, in preghiera la persona che vuole essere guarita. da Dio e Gesù. Amo. 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 flash flash www.vo.it flash autore flash angelo trattino cristiano e vancello trattino piccone fin qui finisce la prova se siete affetti di una malattia prossima può passare un mese, due mesi, tre mesi, un anno, due, non è importante dipende l'angelo che avete nella fronte dove muterà i vostri peccati quando vi viene male quattro volte nella vostra testa dopo la quarta volta l'angelo ha il dovere da parte di Dio di prendere i vostri peccati e buttarli dentro il vostro corpo e dipende dove li butta in quale reparto dei vostri muscoli o ossa o cuore o polmone o lo stomaco nel febbre, nel pancreas, negli indestini o nella colonna vertebrale o nelle gambe, nella sciatica o un ictus dove li butterà? li butterà proprio sopra l'entrata e l'uscita del sangue per quel preciso organo e mentre li butterà sopra l'entrata e l'uscita del sangue per quel organo presto si ammalerà perché non entrerà più ossigeno e quel punto preciso cadrà ammalato dipende quale organo sarà colpito voi sarete ammalato perciò io mi consiglio più retto e precise di effettuare un controllo al più presto medico vedere dove siete attenti oppure direttamente andare in ginocchio ovunque vi trovate oppure cercando di uno stanzino magari uno scapuzzino o dentro del bagno da soli vi inginocchiate chiudete gli occhi e date luode a Dio e a Gesù chiedendogli Signore ho fatto un testo e questo testo mi risulta che io sono affetto a una prossima malattia ti chiedo perdono qualunque sia il mio peccato di come ha parlato il fratello Angelo Piccone io ho fatto tanti di questi peccati con la mente e anche coi fatti perciò ti chiedo perdono umilmente perdono mi umilio davanti a te e davanti al tuo figliolo Gesù ora adesso e chiedo misericordia mentre mi accosta a te un cuore aperto ti prego Gesù entra dentro del mio cuore ed �도 ti prego ego e l'eugno e leرضi in il il getrato il gioco il gioco il gioco il gioco Grazie a tutti.